Il giudice dell'udienza preliminare Antonino Laganà concorda con la linea del PM Sara Ombra e Francesco Tripodi e del procuratore reggente della procura reggina appunto Ottavio Sferlazza e rinvia dunque a giudizio per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico l'attuale governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, all'epoca dei fatti contestati sindaco di Reggio Calabria, unitamente tra i revisori dei conti del comune reggino, Domenico D'Amico, Ruggero Alessandro De Medici, Carmelo Stracuzzi. I fatti risalgono alla guida del settore bilancio e tributi dello stesso comune reggino di Orsola Fallara, morta nel 2010 alcuni mesi dopo lo scandalo sulle autoliquidazioni che in suo favore avrebbe le stesse effettuato per il suo incarico in commissione tributaria. Dimostrerò la mia totale stranetà e dimostrerò altresì alla mia città quale sia la verità, questo è il senso delle dichiarazioni del presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti subito dopo la pronuncia del GUP. Dispiace registrare che un'accusa possa fondarsi sul fatto che un sindaco non possa non sapere. Ha incalzato lo stesso Scopelliti che non si è sottratto agli interrogatori della procura in cui ha fornito la propria versione dei fatti, dichiarandosi sempre sereno e fiducioso. I tre revisori dei conti invece si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Adesso la prima audienza della fase dibattimentale avrà luogo il prossimo 7 novembre presso il Tribunale di Reggio e i legali, gli avvocati Nico Dascole e Aldo Labbate si dicono certi di dimostrare nella sede dell'accertamento dei fatti e della formazione delle prove processuali, quali appunto il dipattimento, che l'allora sindaco Giuseppe Scopelliti non era tenuto a ravvisare tali regolarità nella gestione contabile dell'ente comunale di Reggio Calabria, avendo pura responsabilità politica e non anche tecnica. Adesso un processo accerterà le responsabilità e al suo termine solo allora si avrà la sentenza.